mister nicoletti alla vigilia del match contro il troina seconda partita consecutiva qui all'accarrano che match ti aspetti una partita difficile una partita difficile perché incontriamo una squadra che vuole vuole far punti vuole risalire la china viene da due risultati utili positivi di sicuro verrà a santa maria per vendere cara la pelle come d'altronde sono sono tutte le squadre tutte le partite sono sono improntate in questo modo sicuramente cosa hai detto in settimana la ripresa degli allenamenti alla alla squadra di stare sul pezzo di avere sempre lo stesso atteggiamento essere propositivi e positivi ho chiesto di fare qualche sacrificio in più anche fuori dal campo perché è importante anche l'allenamento invisibile se vuoi ambire qualcosa di importante devi devi curare tutti i particolari noi vogliamo fare questo e non dobbiamo tralasciare niente dobbiamo essere consapevoli delle nostre potenzialità però avere sempre sempre l'umiltà giusta di di non fare voli pintarici di stare attenti a tutte le situazioni di difficoltà che possono potrebbero accadere mister qualche buona notizia arriva finalmente anche dall'infermeria e poi ieri è stata anche la giornata di di gabriel borges che si è sottoposto all'intervento alla clavicola con l'augurio di poterlo rivedere quanto prima sulla sul campo sì innanzitutto di nuovo un grosso in bocca al lupo un augurio di pronta guarigione a gabriel che ieri ha avuto l'intervento positivo è andato tutto bene quindi speriamo che adesso processo di riabilitazione possa essere quanto più veloce possibile anche se l'intervento alla spalla comunque richiede tempi tempi stabiliti poi per quanto riguarda gli altri infortunati recuperiamo kunzi fu fu e simonetti che sono tre giocatori importanti che ci possono dare delle alternative ci possono dare comunque esperienza e e soprattutto qualità mister in settimana o meglio ieri più che altro è arrivata la conferma anche sulla coppa italia sedicesimi di finale di nuovo qui al carrano contro il cittanova insomma una competizione che diventa sempre più appetibile per i giallorossi sì sì una competizione a cui teniamo tantissimo la dimostrazione delle prestazioni che abbiamo offerto contro gerbison e conto cavese e poi la dimostrazione che abbiamo una rosa ampia di giovani soprattutto bravi forti che vogliono mettersi in mostra e questa competizione potrebbe essere pure un modo per un trampolino di lancio per cercare di mettersi in mostra e ripeto e poi adesso diventa diventa appetibile diventa ambizioso andare avanti grazie mille mister in bocca al lupo per domani vive il lupo grazie a te grazie a te